In risposta alla domanda del profeta Joseph Smith, il Signore lo struì dicendo «E nessuno può contribuire a quest'opera, salvo che sia umile e pieno d'amore, e abbia fede, speranza e carità, e sia temperante in tutto, in qualunque cosa venga affidata alle sue cure». L'insegnamento di essere temperanti di tutto si applica a ognuno di noi. Che cos'è la temperanza? E perché il Signore vuole che siamo temperanti? Una semplice definizione potrebbe essere quella di usare moderazione nel consumo di cibi e bevande. Infatti, questo significato di temperanza potrebbe essere una buona regola per rispettare la parola di saggezza. A volte la temperanza può essere definita con il trattenersi dalla rabbia o il non andare in collera. Comunque, queste definizioni sono soltanto alcune dei modi in cui questa parola viene usata nelle scritture. In senso spirituale, la temperanza è un attributo divino di Gesù Cristo. Egli desidera che ognuno di noi sviluppi questo attributo. Imparare a essere temperanti in ogni cosa è un dono spirituale disponibile attraverso lo Spirito Santo. Quando l'Apostolo Paolo descrisse alcuni frutti dello Spirito nella sua Epistola ai Galati, parlò di amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Quando Paolo scrisse a Tito, descrivendogli gli attributi necessari a un vescovo per contruire il suo lavoro, disse che un vescovo deve non essere arrogante, non iracondo, ma temperante. Essere temperanti vuol dire usare moderazione in tutto o esercitare autocontrollo. Quando Alma il giovane insegnava nella terra di Gedeone, disse «Confido che non siate elevate nell'orgoglio del vostro cuore. Sì, confido che non abbiate posto il vostro cuore nelle ricchezze e nelle cose vane del mondo. Vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gentili, facili da trattare, pieni di pazienza e di longanimità, essendo temperanti in ogni cosa». In seguito Alma, in un discorso nel quale istruì suo figlio Shiblom, e i cui insegnamenti si estendono anche a noi, disse «Badate di non elevarvi nell'orgoglio, ma siate diligenti e temperanti in ogni cosa». Essere temperanti significa esaminare tantamente le nostre aspettative e i nostri desideri, essere diligenti e pazienti nella ricerca di obiettivi retti. Qualche tempo fa, stavo tornando a casa dal lavoro quando un camioncino che andava nella direzione opposta perse una delle sue doppie gomme. La gomma volò nello spartitraffico e separò le due corsie. Arrivò rimbalzando fino al mio lato della strada. I conducenti delle macchine sterzavano in entrambe le direzioni, non sapendo in quale sarebbe poi rimbalzata la gomma. Mi spostai bruscamente a sinistra quando avrei dovuto spostarmi a destra, e la gomma rimbalzò finendo esattamente nell'angolo del mio parabrezza. Un amico chiamò mia moglie per informarla dell'incidente. Successivamente mia moglie mi disse che aveva subito pensato a delle lacerazioni a causa del vetro frantumato. In effetti ero ricoperto di pezzettini minuscoli di vetro rotto, ma non avevo neanche un graffio. Non fu sicuramente grazie alla mia abilità di guida, ma piuttosto perché il parabrezza della mia piccola auta era fatto di vetro temperato. Il vetro temperato, come l'acciaio temperato, è sottoposto ad un processo di riscaldamento ben controllato che aumenta la sua resistenza. Perciò, quando un vetro temperato è sotto pressione, non si rompe facilmente in piccole schegge taglienti e pericolose. Allo stesso modo, un'anima temperante, che è umile e piena d'amore, è anche una persona di maggiore forza spirituale. Avendo una maggiore forza spirituale, siamo in grado di sviluppare la padronanza di noi stessi e di vivere con moderazione. Impariamo a controllare o temperare la nostra rabbia, la vanità e l'orgoglio. Grazie a una maggiore forza spirituale possiamo proteggerci da eccessi pericolosi e dalle dipendenze distruttive del mondo di oggi. Tutti noi cerchiamo la pace nella mente e desideriamo sicurezza e felicità per la nostra famiglia. Se cerchiamo speranze per l'avvenire nel calo economico dell'anno passato, forse le prove che alcuni di voi hanno affrontato ci hanno insegnato che la pace nella mente, la sicurezza e la felicità non derivano dall'acquisto di una casa o dall'accumulo di beni per i quali i debiti e i contratti sono più grandi dei nostri risparmi o delle nostre entrate. Viviamo in un mondo impaziente e intemperante, pieno di sincertezze e contese. È simile alla comunità di convertiti e fedi diverse dove vive a Joseph Smith quando era un ragazzo di 14 anni in ricerca di risposta alle sue domande. Il giovane Joseph Smith disse tutti i loro buoni sentimenti l'uno per l'altro, se mai ne avevano avuto alcuno, si persero interamente in un conflitto di parole e di controversia sulle opinioni. Per avere sicurezza nella nostra famiglia dobbiamo imparare l'autocontrollo, a evitare gli eccessi di questo mondo e a essere temperanti in ogni cosa. Con una fede fortificata in Gesù Cristo possiamo avere una pace della mente. Essendo dirigenti nell'osservare le alleanze fatte al battesimo e nei sacri tempi del Signore possiamo avere la felicità. Quale miglior esempio di temperanza possiamo avere se non quello del nostro Salvatore Gesù Cristo? Il Salvatore insegnò che quando il nostro cuore è indotto all'ira a causa delle dispute e delle contese dobbiamo pentirci e divenire come un fanciullo. Dobbiamo riconciliarci con i nostri fratelli e divenire a Lui con pieno intento di cuore. Gesù insegnò che quando gli altri sono scortesi la mia benevolenza non se ne andrà da te. Quando ci troviamo nel dolore egli disse sii paziente nelle afflizioni non insultare coloro che insultano governa la tua casa committenza e sii costante. Quando ci sentiamo oppresso possiamo ricevere conforto sapendo che fu oppresso e afflitto e tuttavia non aprì la bocca. certamente egli ha portato le nostre afflizioni e si è caricato dai nostri dolori. Quando Gesù Cristo è il più grande di tutti soffrì per noi al punto di sanguinare da ogni poro nella sua sofferenza non espresse rabbia e non insultò con insorpassato autocontrollo e temperanza i suoi pensieri non erano per se stesso ma per voi e per me in seguito in umiltà e pieno d'amore disse non di meno sia gloria al padre bevi e portai a termine i miei preparativi per i figlioli degli uomini. Durante quest'ultimo anno ho avuto il privilegio di rendere testimonianza della realtà del nostro Salvatore e della restaurazione del Vangelo ai Santi e amici in Asia. La maggior parte di loro sono della prima generazione di Santi degli ultimi giorni che vivono dove la Chiesa è ancora all'inizio. Questo viaggio nel loro regno è simile a quello fatto dai primi Santi della Chiesa negli anni passati. In questo mondo meraviglioso di diversità in Asia dove i membri della Chiesa Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni sono soltanto una frazione dell'1% della vostra popolazione ho acquisito un maggiore apprezzamento per l'attributo cristiano della temperanza. Amo e onoro questi Santi che mi hanno insegnato da verso l'esempio cosa significa essere umili e pieni d'amore. Essere temperanti in tutto in qualunque cosa venga affidato le loro cure. Grazie a loro ho compreso meglio l'amore che Dio ha per tutti i Suoi figli. Vi lascio la mia testimonianza che il nostro Redentore vive e il suo dono divino della temperanza è disponibile per tutti i figli di Dio nel nome di Gesù Cristo. Amen.